Il decreto aiuti, come andrà? Sul decreto aiuti il partito democratico garantisce piena fiducia e sostegno al governo, sono 19 miliardi per il caro a vita e per l'emergenza dei cittadini. Le emergenze purtroppo non sono finite, la guerra, la pandemia, adesso il caro bollette e noi riteniamo che ci debba essere unità e sostegno al governo per affrontare queste e le sfide dei prossimi mesi. Lei ritiene che il governo rischi? Andiamo, andiamo, se no non ce la fai fare il giurazione. Grazie mille.